Grazie in questo primo video d'avventura Questo è un gioco che vogliamo continuare nel boss Qua vogliamo continuare nel boss Qua vogliamo saltare, guardate, questo gioco vogliamo continuarlo nel boss Sì, guardate, scappiamo nel boss Vuole il boss che devo sterminare Sì, guardate, non so Sì, io mi ci l'ho fatto Sì, guardate, guardate E guardate, guardate Carrii, guardate, guardate oh oh no 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 Sì, 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 sì. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.